Inizia ufficialmente la seconda parte di stagione per il volley Soverato, domenica prima giornata della pool promozione, Soverato che parte in casa affrontando Cus Torino, Soverato che parte dal terzo posto in questa pool promozione, quindi una posizione molto importante, coach napolitano. Una partita contro Cus Torino, ovviamente che nella prima parte ha disputato le partite nell'altro girone, il girone B, si è classificata quinta nel girone B, ma non per questo significa che sarà una partita agevole. No, agevole in questo girone promozione non c'è nulla, anzi è una partita secondo me complicata perché loro si sono qualificati nel girone promozione all'ultima giornata, quindi saranno un po' sulle aree dell'entusiasmo, non hanno nulla da perdere perché per loro l'obiettivo credo che sia stato già ampiamente raggiunto, considerando quello che erano le vicissitudini di inizio stagione, quindi giocheremo contro una squadra libera di testa. Per questo motivo ancora di più una partita da affrontare con grande attenzione, una squadra che comunque non ha delle grandissime priorità ma che gioca bene di squadra e che difende tanto, per cui una squadra veramente da prendere con dovute attenzioni. Noi partiamo da un terzo posto che come ho già richiarato non era per nulla scontato, assolutamente, soprattutto non erano scontati i punti di vantaggio sulla quarta e la quinta. Non sono tantissimi però non sono neanche pochi, ce li siamo guadagnati con le unghie e con i denti, non è stato semplice perché comunque questa prima parte di stagione abbiamo voluto lavorare contro alcune avversità, non ultimo la ripartenza di Silvana per la nazionale ma le ragazze sono state molto bene da sopperire a questa assenza, il periodo iniziale a Sant'Andrea. Da questo punto di vista devo dire che la squadra ha reagito molto bene, adesso dobbiamo fare un ulteriore sforzo perché il campionato è molto complesso, siamo rimasti in undici, anche se la società ha fatto tutto quello che poteva per cercare di colmare questo gap non ci siamo riusciti e quindi dobbiamo accettarlo. Considerando la difficoltà del campionato che ci costringe a viaggiare tanto, devo dire che potrebbe essere questo un punto importante da dover gestire. Si arriva a questa partita dopo praticamente due settimane piene di sosta, due settimane che hanno permesso al Soverato di ricaricare le batterie come si suol dire, ma al contempo sono due settimane di inattività per quanto riguarda le partite ufficiali disputate, quindi possiamo dare una duplice lettura a queste due settimane di sosta? Più che lettura è un'incognita, nel senso che in realtà i giorni sono 20, quindi più di due settimane. Purtroppo questo è un problema che ha sempre contraddistinto Vole Soverato in generale o le squadre che lavorano in posti logisticamente un po' più sfavoriti, perché ovviamente non riusciamo a fare amichevoli, ci abbiamo provato ma non ci siamo riusciti. Ci siamo allenati molto bene e questo è un punto, ma sicuramente i 20 giorni di distanza dall'ultimo match potrebbero in qualche misura rappresentare un'incognita nel trovare subito il ritmo partita. Torino so che ha fatto un amichevole a Cuneo, le altre squadre, Ravenna a Filottrano, insomma questo comunque in qualche misura ci penalizza, però come dico sempre alla fine le avversità fortificano, nel senso che se si riesce, come abbiamo fatto anche in questi quattro mesi, a lavorare anche contro le avversità, poi alla fine quello che si ottiene è il rendimento in campo e quindi la capacità magari di giocare contro le avversità che il campo ci pone. Con Giulia Gibertini presentiamo questo primo impegno nella pool a promozione del volley Soverato, domenica si parte Sordio in casa contro Torino che si è classificata quinta nell'altro girone, ma non per questo un avversario da sottovalutare, Soverato che però parte da una posizione ottimale perché è terzo in questa griglia della pool promozione, quindi i frutti del tanto lavoro della prima fase adesso si sono tramutati in questa posizione che è importante per voi. Sì, buonasera a tutti, che dire, finalmente giochiamo perché dopo due settimane di stop, finalmente domenica ricominciamo, abbiamo lavorato tanto in queste settimane e siamo molto cariche e soprattutto perché giochiamo poi in casa e che dire, del nuovo campionato non c'è da sottovalutare nessuna squadra, sarà una battaglia ogni partita. Presentiamo nel dettaglio questo Custorino che vanta degli elementi giovani ma anche degli elementi esperti della categoria, quindi un mix giusto, una squadra ostica che fa sudare molto gli avversari. Sì, come ogni anno il Custorino fa sudare tutti, quindi ci dovremmo rimboccare le maniche, sì c'è il palleggiatore, l'opposto e i centrali e anche le bande diciamo che sono esperte, quindi direi che sarà un gran match. Per quanto riguarda la condizione psicofisica della squadra, una squadra che è vero non disputa partite da oltre due settimane, però al contempo ha avuto modo di allenarsi bene e ha ricaricato le batterie dopo le fatiche della prima fase. Sì, abbiamo ricaricato le batterie, abbiamo lavorato tanto sia in palestra pesi che in palestra e siamo cariche per questo inizio di nuovo campionato.